Nel nome richiamava l'eternità, tanto era duro e resistente, da sfidare il tempo. Ma l'eternite per il Salento è stata altra storia, per niente eterna se non nella fiducia tradita. Se vanno ad esempio al cimitero di Niederurne o Operurne e prendono quelle persone che hanno lavorato all'eternite, difficilmente troveranno uno che è morto dopo i 65 anni. Racconta dell'epopea degli operai del Capodileo che è impiegati nelle fabbriche di Niederurne in Svizzera il documentario L'Eterneide per la regia di Donato Nuzzo e Fulvio Rifugio. È la prima video inchiesta che parte dalle esperienze di vita ma poi scava nelle responsabilità di chi sapeva e non ha detto, approfondisce le colpe consapevoli di chi poteva e non ha fatto nulla per scongiurare che il riscatto cercato dei lavoratori in un impiego all'estero si trasformasse in una condanna a morte. Le sue otto ore di lavoro erano continuamente esposte all'amianto, non c'era un reparto dove eri immune da questa esposizione. Polvere a volontà, non c'era misura. Chi qui è tornato, soprattutto nei paesini tra Corzano, Tigiano, Andrano, ha portato con sé le malattie più dolorose legate all'esposizione all'asbesto, il mesotelioma pleurico soprattutto. Eppure, già dal 1962 si conosceva la pericolosità dell'inalazione delle polveri d'amianto. Sono stati oltre 900 i salentini assunti all'Eternit di Niederurnen, almeno questi sono i numeri che si conoscono. Ma la portata di quegli effetti continua a strozzare anche mogli e figli che con gli operai convivevano e condividevano l'esposizione alle fibre tossiche. Hanno mandato la carta per andare, abbiamo detto che non poteva andare, no? E diceva, vengo, ma non sono venuti mai. È morto e non sono venuti mai. Nell'attesa di conoscere l'esito della visita, vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente. Cioè ti mandano, ti scrivono tante belle cose e poi alla fine non c'è niente. È un viaggio che fa la spola tra il Capodileuca, la Svizzera e Casale Monferrato, l'Eterneide. Un magistrale lavoro di ricerca tra documenti inediti e testimonianze forti, ricercate anche attraverso il supporto dell'Associazione Migranti Esposti e Vittima Mianto di Corzano e di Casale Monferrato. Tra le voci ascoltate, anche quella del procuratore Raffaele Gueriniello, PM, nel processo che il 13 febbraio 2012 ha portato il Tribunale di Torino a emettere una sentenza storica, poi confermata in appello, con la condanna dei vertici dell'azienda per disastro ambientale doloso permanente e per omissione volontaria di cautele antinfortunistiche. Non sempre le istituzioni sono state pari ai loro compiti. Ora si aspetta che anche per gli operai salentini si avvii un nuovo procedimento giudiziario per cercare ed ottenere giustizia. Signori da Svizzera, quando si mettono a pagare stesarcimento, ormai pure lui è sotto sta terra e chiede vendetta, e noi non ci fermiamo mai.